Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Matioski e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pillole di Comics, la rubrica in cui parleremo di storie e personaggi dei fumetti supereroistici. In questa puntata vi parlerò dell'agente Phil Coulson. Dopo Nick Fury, l'agente... Cousin! L'agente Coulson è sicuramente il membro più famoso dello S.H.I.E.L.D., il suo debutto è avvenuto nel Mar del Cinematic Universe, ma la sua popolarità è stata tale da portarlo anche su altri media. Oggi vi parlerò nello specifico della storia cartacea e fumettistica dell'agente Coulson. Phil Coulson appare per la prima volta in Battlescars 1 del novembre 2011, dopo la fine dell'evento Fear Itself. Per tutta la sua vita Phil è stato ossessionato dai supereroi e ha creato addirittura il suo personale database, con schede dedicate a ciascun eroe. Non era inusuale per Phil lasciare da parte qualsiasi cosa pur di non perdersi neppure uno scontro tra superumani trasmesso dai notiziari. Dopo qualche tempo troviamo Phil nel secondo battaglione dei Ranger, diretto in Afghanistan, e nell'esercito fa conoscenza con quello che diventerà il suo migliore amico, Marcus Johnson, il figlio illegittimo di Nick Fury, il cui vero nome di battesimo è Nick Fury Jr. Storia lunga, sì. Dopo che Phil ha aiutato Nick Fury Jr. a vendicare la morte di sua madre, i due si uniscono allo SHIELD. Phil viene assegnato all'analisi dei dati, ma diventa presto un agente sul campo. Per un po' l'agente Coulson fa delle brevi apparizioni, dei cameo in diversi fumetti, ma niente di troppo rilevante. Tutto cambia nel 2013, quando la Marvel rilancia la testata Secret Avengers Vendicatori Segreti, testata in cui Phil riveste un ruolo molto importante. Assieme a Nick Fury Jr., Coulson si occupa di assemblare e gestire il team, composto da Occhio di Falco, Vedova Nera, Mimo e Hulk. Questo gruppo si occupa di portare a termine missioni segrete, talmente segrete che persino gli eroi non se le ricordano, dato che al termine di ogni incarico la loro memoria viene opportunamente cancellata. Un anno dopo, nel 2014, la Marvel rilancia nuovamente la testata e nel team troviamo l'agente Coulson, Nick Fury Jr., Occhio di Falco, Vedova Nera e Spider Woman. Il tono delle storie diventa molto più leggero e scanzonato. Al di fuori dei Secret Avengers, Phil agisce come rappresentante dello S.H.I.E.L.D. e spacca i culi in una storia di Deadpool. Attualmente, Coulson è il personaggio principale della testata dedicata allo S.H.I.E.L.D. e ispirata alla serie televisiva ed è diventato il comandante delle forze speciali. Phil non comanda solo gli agenti visti nella serie come Fitz, Simmons e May, ma coordina anche dozzine di eroi, data la sua capacità di assemblare team efficaci dovuta alle sue ricerche giovanili. Oltre a comparire in Agents of S.H.I.E.L.D. e nei fumetti che fanno parte della continuity principale della Marvel, Coulson appare anche in Ultimate Spider-Man, sia fumetto che cartone, nel videogioco Super Hero Squad, in Iron Man Armored Adventures, in Marvel Discourse, in Lego Marvel Super Heroes, in Avengers Alliance e in Marvel Heroes. Sì, si può dire che Phil Coulson sia diventato un personaggio giusto un tantinello popolare, n'è vero? La storia di Phil Coulson per ora finisce qui e adesso comincia la vostra. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle avventure di questo baldo agente dello S.H.I.E.L.D. e soprattutto cosa ne pensate di questa nuova rubrica, Pillole di Comics, la sorella gemella di Pillole di Star Wars, la cui prima puntata è uscita qualche giorno fa, se ve la siete persa, potete recuperarla. Detto questo, mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto e seguitemi su tutti i vari social network che vi metto a disposizione, Facebook, Twitter, Instagram, trovate i link in descrizione e trovate anche il link del canale Telegram. Iscrivendovi al canale Telegram rimarrete sempre aggiornati sulle varie attività del sottoscritto, diventerete mie amiche intime. E un altro modo per diventare amiche intime del sottoscritto è iscrivervi al gruppo di Facebook che si chiama, guarda caso, le amiche intime di Matioschi. Anche lì rimarrete sempre aggiornati, non vi perderete neppure un video e conoscerete anche tanta bella gente, bei gnocchi e belle gnocche, con cui conversare amabilmente dei miei video oppure di altri argomenti, tutto quello che volete, sempre sotto l'occhio vigile del sottoscritto. Detto questo vi do appuntamento alla prossima puntata di Pillole di Comics e agli altri video che usciranno sul mio canale e vi saluto, vi saluto con il mio sopieroistico sbatunsh!